Ma ragazzi, siete pazzi? Questa è una proprietà privata. Io dove li trovo un milione di euro in tutta notte? Sappiamo che lei è molto amico del diretto. Sicuramente troverete un altro. Muoviti! Salga in macchina, il nostro socio l'accompagnerà. Vada! E ovviamente, se non sarete qui entro mezzanotte, sua moglie farà una frusta più. Grazie a tutti.